501. I social network ti danno il diritto di parlare con legioni di idioti che per primi hanno parlato solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la comunità. Furono rapidamente messi a tacere, ma ora hanno lo stesso diritto di parlare come premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. Umberto Eco, 1932-2016. Scrittore italiano. 502. Educare in democrazia? No, per favore, la democrazia è la mancanza di educazione. Educare all'antidemocrazia, saper valutare il bene, non quello che dice la maggioranza. Ilunga M. Mora, 1968. Autore spagnolo. 503. In essi furono installati i quattro ministeri tra cui era diviso l'intero sistema governativo. Il Ministero della Verità, che è stato dedicato alle notizie, spettacoli, educazione e belle arti. Il Ministero della Pace, per questioni di guerra. Il Ministero dell'Amore, incaricato di mantenere la legge e l'ordine. E il Ministero dell'Abbondanza, che corrispondeva alle questioni economiche. I loro nomi, Innev Spec, Miniver, Minipax, Minimo Remini in Dantia. George Orwell, 1903-1950. Scrittore britannico. 504. La guerra è stata la forma di espansione dell'impero nelle due occasioni in cui la democrazia è apparsa nella storia, sia nell'antica Atene che negli Stati Uniti. Ilunga M. Mora, 1968. Autore spagnolo. 505. Il crimine, il crimine della mente, non implica la morte, il crimine è la morte stessa. George Orwell, 1903-1950. Scrittore britannico.